buongiorno ada per me è un grandissimo onore essere qui e poter leggere questa poesia poterla dedicare con il cuore a filippo come ritrovare se stessi l'infinito è l'essenza dell'universo che senso ha volerne catturare l'immagine se essa è raggiungibile sarebbe come versare un bicchier d'acqua in mare e poi raccoglierlo gettare un pugno di granelli di sabbia nel deserto e saperli ritrovare disperdere nel vento o nell'aria il tuo respiro e saperlo riconoscere se puoi far questo allora tu uomo sai anche ritrovare te stesso